Roberto Melchiorri torna all'appuntamento con Spot in Rosa e con un biscottino per tutti, insomma tradizione consolidata anche quest'anno. Beh d'altra parte è una cosa talmente bella alla quale non siamo in grado di rinunciare, in grado tra virgolette. Ci rivediamo con questa organizzazione in una maniera per incontrare tanti amici, tanti civile vecchiesi che ormai hanno fatto l'abitudine a passare lì per un brindisi augurale, per mangiare sto biscottino, per assaggiare magari vari, diversi biscottini, ma io penso principalmente per trovare un po' una ventata di civile vecchiesità perché sia la nostra sede, sia gli atti conseguenziali, eccetera, sono tutti basati alla ricerca di questa civile vecchiesità che cerchiamo di non far perdere definitivamente, visto i passi indietro che abbiamo fatto in questi ultimi 20-30 anni. Anche quest'anno il protagonista sarà la SG, l'anno scorso ci fu Codroneo, quest'anno invece le allievi sono errate seconde in Italia nel campionato nazionale. Sì, è una squadra molto importante in cui ci sono quattro allievi capitanati da Esposito che già abbiamo premiato precedentemente e che sono arrivati secondi a questi campionati assoluti in Italia. È un risultato molto importante perché nessuna società in questi ultimi dieci anni del Lazio ha raggiunto questi obiettivi, ma è ancora più importante perché progetta queste ragazze verso traguardi infinitamente belli, insomma. E noi, questa società sportiva di ginnastica che continua a tirare fuori protagonisti di quella disciplina, che continua con un'ottima organizzazione a fare, rifare, con delle grandi istruttrici. Non ci sarà Camilla Ocolini che è impegnata da un'altra parte, ma ci sarà la signora Ronda che è un'altra istruttrice con un curriculum molto importante, avendo partecipato ai mondiali, agli europei di ginnastica, eccetera. Quindi, insomma, alle 22.30 un bel momento di sport, di sport vero, di sport, come dire, al femminile, ma che poi è importante perché vede impegnarsi tutta una fascia di giovani che debbano e dovranno continuare a dare tanto alla nostra città.